Abbiamo assistito a queste prove fantastiche di questi ragazzi al centro diurno che portano un po' così in scena i Promessi Sposi, cioè già il titolo è un programma. Finalmente un grande ritorno al Teatro Serpente Aureo, venerdì 5 maggio, alle ore 21 non mancate, perché i ragazzi del centro diurno metteranno in scena lo spettacolo i Promessi Sposi. Uno spettacolo che ci emozionerà, ci farà ridere, ci farà divertire e sarà davvero una serata speciale con attori speciali che hanno davvero un posto nel cuore di ognuno di noi e insomma sono emozionata e anche felicissima di poterli rivedere dopo tre anni purtroppo di fermo. Noi abbiamo iniziato prima della pandemia nell'ambito dell'attività di teatro e poi ci siamo fermati e abbiamo proseguito insomma per quasi un anno a realizzare questo spettacolo. È uno spettacolo dove ognuno ha un ruolo ben preciso e quindi diciamo che è uno spettacolo molto divertente, dove loro si sono molto divertiti e per noi è importante anche per una crescita personale ed anche per la loro autostima. Io vorrei ringraziare l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, in particolare il Presidente Sindaco di Spinetoli, che loro ci supportano insomma tutte le nostre iniziative. Il teatro per noi è anche inclusione nel territorio della Vallata del Tronto, infatti facciamo una rassegna teatrale con le scuole partendo da Offida dove faremo con la scuola media, lo spettacolo lo faremo l'8 maggio al mattino, poi proseguiamo a Monsampolo, sempre con i ragazzi della scuola media, lo faremo l'11 e poi a Spinetoli, sempre con la scuola media, lo faremo il 18. Sindaco, hai esordito dicendo sono contento di aver scelto il teatro di Offida. Sì, perché domani sera il teatro di Offida, che ospita tante iniziative, è una nostra bomboniera, ospiterà un grande spettacolo domani, perché i ragazzi del Centro di Urno sono, innanzitutto ragazzi straordinari, fanno un percorso che è importante per loro, per le loro famiglie, e mettere a disposizione il teatro siamo veramente felici. Anche questo è un po' di cultura, la cultura fa bene a tutti, fa bene anche a questi ragazzi, hanno sviluppato un progetto in cui si sono impegnati, domani ci renderanno partecipi di questo loro sforzo, è fondamentale sostenerli, è fondamentale sostenerli per le istituzioni, quindi per l'Unione dei Comuni di Valore del Trondo e il Centro di Urno, che rappresenta comunque un elemento di supporto, innanzitutto ai ragazzi e alle famiglie, quindi è necessario continuare a investire. Sono attività che vengono portate avanti grazie al grande impegno della cooperativa, al grande impegno degli operatori, che poi sono a contatto giornalmente con questi ragazzi, e dicevo, credo, mi auguro che sia veramente domani sera una bella serata, l'invito è a venire ad Uffida al Teatro Serpente Aureo e l'invito è comunque di sostenere l'attività anche delle famiglie, spesso e volentieri queste situazioni rimangono un po' nascoste, bisogna invece averci l'approccio che deve essere delle istituzioni, ovviamente di sostegno continuo, noi lo facciamo come Unione, dicevo, il Centro di Urno è un'eccellenza e dovrà continuare ad esserlo. Grazie, grazie a entrambi. Grazie a voi, a domani, a Uffida. Grazie a tutti.